Parlando degli altri gruppi Sicuramente Piezze Core Sono i Nero di Marte È un gruppo Con cui ho iniziato a suonare Da pochi anni Ma mi reputo Reputavo fan del gruppo Da quando li scoprì Mi reputo un fan ancora adesso Della musica Tra l'altro Giusto perché me l'avevi chiesto Con gli Ideus io ho registrato gli ultimi tre dischi Sono subentrato dopo il primo batterista Dopo il primo disco Quindi ormai sono diversi anni che lavoriamo insieme Direi otto se non sbaglio Non sono pochi No decisamente Con i Nero si parla di un quattro anni e qualcosa Tra l'altro con i primi due anni Che mi hanno visto pendolare ogni due settimane Andavo a Bologna Perché il gruppo ha la maggior parte Dei componenti lì Dovevamo comporre questo terzo disco Il processo ha richiesto due anni Abbiamo proprio volutamente rifiutato Anche di fare delle date Siamo concentrati al massimo sulla musica È stato un approccio compositivo Fresco Mai sperimentato Quindi non ti era mai capitato Anche perché puoi salire nel weekend ogni due settimane Sì La mattina entri in sala ed esci alle dieci e mezza Che tu crampi allo stomaco Era proprio una full immersion pazzesca Immagino che puoi tenere questa settimana o due addirittura Sì due bisettimanale Poi delle volte tre Deve volte anche di più Perché mi è capitato qualcosa di simile anche a me E non so se hai la stessa sensazione Tipo sei full immersion Due settimane di stacco inizia Ripensare a quello che hai fatto Quando rientri in studio Inevitabilmente Sei già un altro musicista E hai un'altra interpretazione Assolutamente sì O hai assimilato la cosa in maniera diversa Tra l'altro Proprio riguardo a questo Che è stato fondamentale Noi registravamo le prove Con lo zoom Anche questa per me Esperienza nuova Magari mi era capitato le volte O registriamo il riff O registriamo questo pattern Con telefonino Ma cose molto sporadiche Con altri gruppi Qui invece sistematicamente Ok Abbiamo arraggiato una bozza di struttura Registrazione Cambiamo qualcosa Si riregistra Take intere Di un brano intero Sì E quindi tu te le risenti poi Nell'arco di quelle due settimane E quindi non solo Tornare a mente fresca Ma tornare a mente fresca Con una serie di ascolti No? È un'altra cosa È incredibile Incredibile Ti fa Quanto più velocemente Impare il pezzo Più velocemente Poi impari il pezzo Assolutamente sì Cioè proprio più lucidità Sì Dicevo Tuttora Adesso Ci vediamo in sala Stiamo scrivendo Il materiale nuovo Poi quando si tornerà a suonare dal vivo Noi dovremmo ancora fare la promozione Per il disco che è uscito Ok A gennaio Di quest'anno Quindi Intanto diciamo Ci portiamo avanti Non l'hai chiamato covid No 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 È già bello e fatto Ok Ho fatto Quindi forse questi brani qua Maggioremo la situazione Quindi diciamo Cerchiamo di stare un po' al passo dei tempi Tenerci attivi Ok E abbiamo lo stesso approccio Ora proviamo a Roma Perché il cantante e chitarrista Si è trasferito Tra l'altro siamo coinquilini Ah Quindi non ti dico la Situazione particolare Anche sinergica Cioè vuoi discutere del brano Puoi farlo a casa Così subito Bussi alla porta Oh C'ho un'idea Oppure Puoi anche menare più facilmente Assolutamente Soprattutto È un'armatura A doppio taglio Vuoi dire Se ti porti il lavoro a casa è così Sì Giusto Diciamo che per adesso I riscontri sono stati solo che positivi È fantastico Certo abbiamo vissuto anche la musica In un modo un po' passivo Casalingo Solo adesso stiamo tornando a esplorare Meglio il discorso delle prove della sala Quindi Sì dobbiamo tornare un po' in carreggiata diciamo Sì dobbiamo tornare un po' in carreto Sì dobbiamo tornare un po' in carreto Sì dobbiamo tornare un po' in carreto